ok io credo che ci siamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' difficile perché comunque il matrimonio è per la sposa e quindi grazie Iris per aver scelto stare a Senigallia e so che è stato difficile per te. Grazie mille per essere qui e che ti amo moltissimo. Grazie a tutti.